music, news, sport, every day for you on the web lecochannel.it, the blue light, blue radio Marco si riparte dopo 4 giorni di riposo dopo la vittoria di Mazzano che sicuramente vi avrà fatto parecchio piacere comunque avete ottenuto una vittoria in trasferta figlia della compattezza ritrovata comunque da quando è arrivato mister Tachinari sono 5 le partite in cui non avete subito gol e non può chiaramente essere un caso no certo questi 4 giorni di vacanza sicuramente ci serviranno noi continuiamo così come abbiamo fatto da questo mesetto e mezzo fino a ora che stiamo facendo molto bene e secondo me se anche domenica ci presentiamo con la stessa voglia cattiveria possiamo fare il risultato è chiaro che con 4 partite da giocare e 5 invece quelle che dovranno essere disputate da qui al termine del campionato ricordiamo che voi avete un turno di riposo è difficile pensare ai playoff però vabbè come si dice in questi casi finché matematica non mette via le possibilità non sta a voi farlo no certo è molto duro andare ai playoff questo va detto però noi non vogliamo continuiamo così che non si sa mai tutto può succedere nel calcio e Marco infine mi sembra giusto chiedertelo è presto vero siamo solo ad aprile appena iniziato però qualcuno è chiaramente venuto a guardare le tue prestazioni dal canto tuo quali sono le tue volontà per il futuro ma guarda questo non so dirtelo sinceramente è ancora molto presto penso a finire al meglio questa stagione con l'ecco che mi ha tolto grandi soddisfazioni posso dire solo questo non so davvero niente grazie Marco buon lavoro grazie a voi music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio music